Credo che servano 8 miliardi di euro per mettere in sicurezza le nostre scuole, 3 di quegli 8 miliardi di euro servono per la sicurezza sismica e quindi stiamo procedendo con le indagini sulla vulnerabilità sismica e i comuni chiedono al governo di continuare a finanziare questi strumenti innovativi, di finanziare la ristrutturazione delle scuole per mettere in sicurezza con un programma pluriannale perché noi crediamo che se è vero che il futuro della nostra società sta all'interno delle scuole è giusto che le scuole vengano vissute dai nostri ragazzi in condizioni di estrema sicurezza.